Un programma molto ricco, io voglio ringraziare in primis tutta l'amministrazione comunale, gli uffici ma soprattutto il mio delegato Giuseppe Marziani che con grande impulso quest'anno con in soli pochi giorni, come ben sapete, siamo stati rieletti adesso a metà maggio, quindi dopo la composizione di tutta quanta la maggioranza, l'aggiunta ai delegati, il mio delegato Giuseppe Marziani è riuscito a comporre un grande cartellone degli eventi e ricco di manifestazioni, come ben sapete adesso apriamo il 17 con uno dei più grandi eventi che è il concerto dei Nomadi che si terrà in piazza del mercato, aspettiamo e accoglieremo tantissima gente sul territorio, tanti turisti che già ci stanno chiamando, ci stanno tempestati di chiamate e mail e poi a conclusione, durante e poi dopo tutto il programma estivo ci sono le manifestazioni in tutte le contrade, in tutte le piazze, di tutte le frazioni per la prima volta nella storia del nostro comune e poi a conclusione di tutti gli eventi il 31 di agosto per la prima volta nella frazione più importante di Quartierumano avremo la manifestazione di Aspettando l'Irish e poi a conclusione i giorni successivi 1, 2 e 3 settembre andremo a conclusione con la manifestazione dell'Irish con delle manifestazioni molto importanti perché abbiamo dei gruppi internazionali per la prima volta nella storia del nostro comune. Voglio sottolineare che per quest'anno per la prima volta le manifestazioni si faranno in tutto il territorio di Notaresco, ogni angolo, ogni piccola località verrà in pratica riempita da gioia musicale e artistica soprattutto.